Salve a tutti ragazzi, sono sempre un Redbox e bentornati nel mio canale! Oggi sono qui in compagnia di un tizio pazzo con la testa pazza che... Che era... Ma in realtà non sto parlando di quello col mantello ma di quello con la faccia da pollo ovviamente Che è un canale così grande che non si è mai visto Infatti lui, quella specie di pollo, vi chiede di lasciare almeno 12,6 mi piace Perché se volete un altro episodio lo devo capire in questo modo Quindi mi raccomando, con mi piace, vediamo quanti mi piace riuscite a mettere Detto questo, in realtà sono in compagnia di Ermac Zane che sta impazzendo in qualche modo E... Gli ho chiesto di insegnarmi a giocare i survival games perché faccio schifo nel PvP di Minecraft E quindi speriamo che grazie al suo aiuto potremmo vincerne qualcuno Ti si sta spaccando la testa! Siamo vicini quindi non rubiamoci le ceste No, uff, uff, spada di ferro, uff, quanta roba ho preso Nice, anche sopra, anche sopra, anche sopra, apri sopra Eh ma, eh, ho paura che... Vabbè, vabbè, ho preso tutto io, andiamo, andiamo, andiamo C'ho tante spade, c'ho tante spade Vai, 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 scappa, scappa Tieni, io ce l'ho Fire Aspect, quindi brucio le persone Tieni Ok, ce li hai, andiamo, andiamo ad ammazzare questi Subito? Sì No, perché qua ci possiamo buttare in acqua, dobbiamo buttarci in acqua perché siamo in alto Ok Ecco qua c'è uno Oh, ha già l'armatura in diamante quello Sì Vai, vai, vai Vai Oh, madonna, questi sciottano Tu scappa, tu scappa, 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 vorrei morire Eh, sto cercando ma mi si mangia la visuale Mangia, mangia Mangia con calma e poi il tono Ok, so già mangiato, sto recuperando la vita Ok Doviamo prendere tutti e due quello in diamante Bello Nice Prendi la roba Prendi la cosa, fai una cosa, tieni, tieni Ok, per esempio, prendi la roba Ho preso la roba in diamante, sì, vai Ok Ti voglio dare la spada a questa Ti do questa che brucia le persone così diventi fortissimo No, aspetta, andiamo da questo che è scappato Sta venendo, sta venendo Aspetta, aspetta, mi ha colpito, mi ha colpito Devo scappare, devo mangiare Ok Mi ammazza, mi ammazza, mi ammazza No, no, ok Mi hai salvato il culo Sì, 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 sto recuperando la vita Sto recuperando la vita Perfetto Nice gux, man Credevo che stavo citando Nice gux Tieni, tieni Ok Hai cibo, vero? Sì, cibo, sì, cibo, sì Spada di diamante e ender pearl Ender pearl Oh, spada di diamante è fortissima Sì, sì, sui passi Un è stato buciso da una mucca Leggi Davvero Una slain by a cow Usa l'arco Guarda, sto colpendo con la spada adesso Vai Bella L'hai shottata con quella spada in diamante Guarda quanta roba qua Questo è morto così È quello che è morto dalla mucca, credo È lui, è lui, è lui Sì, sì Sei tu che metti sempre le frecce Dio bono Mi spaventi Sei pronto a morire, Ermac? Basta con ste frecce, porca troca Ecco la cru che arriva Ecco che arriva Ok Io c'ho il fire aspect sempre Anch'io Ahia, mi ha colpito con la freccia Sì, sì C'ha l'arco di enchantato quindi fa maligno Arrivo Può attaccare solo uno di noi alla volta Ho colpito Oh, occhio, occhio Ha colpito Ha pensato Eh, sono da solo Sei da solo Buttano la lava, buttano la lava Lì c'era la lava Eh, come faccio? Arrivo, arrivo Ho pochissima vita Eh, mangia Mangia, mangia Sì, sì, sto mangiando Vai, vai, questo muore Questo muore Buttano la lava, buttano Vai Ma sempre tu te le prendi le kill, maledizione Eh, le do l'ultimo colpo Oh, è rimasto un unico team Da due persone Possiamo vincere, quindi? Sì, potremmo vincere Non ci credo, eh, Mook Sarebbe il mio primo survival game svinto Grazie per le elezioni Sì, possiamo vincere Ho fatto qualcosa di buono in sta partita Ovvio, ovvio È colpito molto bene gli avversari con la squadra È là in fondo, c'è i tizi Guardali Ecco, sono loro Sì, sono loro Provo a tirare una freccia No, tira l'ender per qui a sinistra Così passiamo subito il fiume, vedi? Ok Eccomi Buonissimo Allora, prepara il cibo, eh Devi mangiare sempre Sì, 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 ce l'ho qua Ce l'ho già pronto di fianco là Mi hanno colpito Con l'arco Oh, questo è Bulbasaur Davvero? Ha la skin di Bulbasaur Sì, c'è uno con la skin di Bulbasaur Vai, vai Lo ammazzo No, non buttarti nell'acqua Brutta pantegana Vieni qua Usa l'arco se ce l'hai, eh Così lo ammazzi L'ultimo colpo Ma porca puttana Non riesco C'è Bulbasaur che mi sta seguendo Aiuto Allora, vengo da te Vengo da te Lascia lo stare l'altro Vai Senti il fuoco che si spegne in l'acqua Sì L'ho ucciso Vai Stronzo Bulbasaur di merda C'aveva tutte le robe in diamante Qua se vuoi prenderle Tu usavi la spada infuocata E quindi l'hai bruciato Bulbasaur Ho bruciato Eh beh, è vero Lui è di erba Quindi si brucia L'altro tizio è scappato È rimasto solo lui, mi sa Gli iscritti ha detto che è a sinistra Quindi da questa parte Ok Eh, l'ho visto scappare di qua io Tico Uh, e se fosse qua dentro Ok, ok, ok Non andarci, qua c'è la trappola C'è la trappola Non andarci Meglio dirò Ok Ok Eh, sì, deve essere Eccolo, eccolo Lo vedi? Mangio, mangio ci sono Mangio ci sono Ok Ma chi sta frecciando? Eh, mentre mangiavo ho tenuto trappola Ah, adesso mi trolli te Eh? Vai Occhio la lava Occhio la... Eh, sì, sì, sì Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ce la fai Ce la fai Piano, piano Piano Sì Sì Gigi Ci faceva quella Con sti cosi Colorante qua Eh, ci puoi inchantare Con il shampoo table Ah, Gigi Vai Bella Porca puttana Bella partita Vabbè ragazzi Io direi che per questo video è tutto Lo so che è stato più breve Dai soliti video Ma siccome non ho mai fatto cose del genere Volevo prima fare un esperimento breve Per vedere se vi può piacere Se vi piace questo tipo di video In compagnia di Ermac Che mi insegna A giocare un po' di pvp su minecraft Dato che io minecraft l'ho sempre giocato in altri modi Non ho quasi mai fatto pvp Sono rimasto indietro con le cose Sono veramente un nabbo E quindi Ermac mi sta aiutando a diventare un po' più forte E vorrei registrare questi momenti di allenamento Tra virgolette Per farvi vedere magari un po' il miglioramento Che avrò, spero In queste modalità grazie al suo aiuto Quindi fatemi capire con tantissimi mi piace qua sotto Se volete vedere altre cose di questo tipo E scrivetelo nei commenti E ovviamente passate anche dal canale di Ermac E ringraziatelo per gli insegnamenti che mi sta dando su minecraft Quindi andate a scrivere sugli ultimi video di Ermac Hashtag Ermac Professore E noi come sempre Ci vediamo nel prossimo video Ciaoone Ciaoone